Grazie a tutti. Quattro ore, sempre alta pressione sul Santo Stefano. Toscana a zona rossa, ecco come vanno gli affari per le attività commerciali aperte e il nostro tour nella frazione di San Paolo. Abbattimento del vecchio ospedale esposto dai residenti nella zona del cantiere, operai a lavoro fuori dagli orari consentiti. Allenamenti sospesi per il Prato, squadra in attesa dei tamponi, intanto l'Aglianese ha ripreso la preparazione. Una buona serata dalla nostra redazione, ben trovato e un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Non si arresta la curva dei contagi a Prato, 231 nuovi casi positivi rispetto a ieri e 7 decessi. E resta sempre altissima la pressione sul Santo Stefano. Sentiamo. Prosegue l'onda del contagio da Covid in provincia di Prato. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 231 nuovi positivi, che fanno salire il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza a 8.190. Sono invece 7 i decessi che si sono verificati nell'ultimo giorno, 3 residenti sul territorio provinciale pratese, 2 uomini di Montemurlo di 77-82 anni e 5 pazienti di Prato, tra i 61 e i 93 anni d'età. All'ospedale Santo Stefano la pressione resta alta. Attualmente sono 136 su 148 i posti letto Covid occupati, 31 su 32 i letti in uso invece in terapia intensiva. Guardando all'intera regione, i nuovi test positivi sono 1.892, oltre 18.000 ai tamponi effettuati e che nel 10,2% dei casi hanno rilevato il virus. L'età media dei nuovi positivi è di circa 46 anni, i ricoverati sono 2.094, 7 in più rispetto a ieri, di cui 296 in terapia intensiva. Si registrano sempre in Toscana 44 nuovi decessi, 26 uomini e 18 donne con un'età media di 82,2 anni, tra questi figurano anche i 7 deceduti in provincia di Prato. E sempre a proposito della città laniera, la Procura Pratese ha aperto un fascicolo d'indagine in merito alla vicenda dei richiedenti asilo positivi al Covid e che si erano allontanati dal centro di accoglienza Santa Caterina, struttura gestita da COP22 della Fondazione Opera Santa Rita. Una quindicina alle denunce trasmesse da Prefettura e Questura e su cui verranno eseguiti accertamenti, il reato ipotizzato è di epidemia colposa. Ad una settimana dall'ingresso della Toscana nella zona rossa abbiamo fatto un giro nel quartiere di San Paolo per capire come stanno andando gli affari per le attività commerciali che sono rimaste aperte. Una settimana fa l'ingresso della Toscana in zona rossa, così come previsto dal DPCM, molte attività commerciali hanno dovuto abbassare la saracinesca. Tra quelli principali che sono rimasti aperti, i supermercati, i genere alimentari e il commercio a dettaglio di prima necessità. Con le nostre telecamere siamo andati a fare un giro a San Paolo dove nonostante la crisi e le incertezze si respira comunque un cauto ottimismo. Per qualcuno gli affari vanno un po' a rilento, per altri si registrano segnali positivi, per tutti comunque è fondamentale essere un presidio importante sul territorio e poter continuare a garantire un servizio alla cittadinanza. Sta andando molto bene, questa volta ci siamo abbastanza otetti, non ci si lamenta. Siamo stati tre mesi chiusi e si è visto che l'incassi, giustamente, che noi ci sarà anche l'affitto, per dire, molto alto, è un problema. Invece questa volta siamo andati abbastanza bene. Anzi, forse ci sono anche degli incrementi di incassi, ci sono più persone che vengono. Sì, 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 perché noi si vendono più che altro tipo roba per l'ospedale, non si ripara a vendere pigiami per l'ospedale. Le vendite purtroppo vanno a rilento, le persone probabilmente si sono anche un po' stufate e ci hanno dei problemi economici, sicuramente è per quello. A differenza dell'altra volta, quando si riaprì dopo Pasqua, dopo il primo lockdown, che le vendite andarono benissimo, a questo giro c'è stato proprio un calo evidente. Quali sono i prodotti che in questo periodo, soprattutto, quindi stanno andando un pochino per la maggiore? La fascia di età è sulle nascite, ovviamente, i primi mesi, anche sulla fascia dell'asilo elementari. Si vede proprio la netta differenza del calo della fascia dove fanno la dad a casa. Le vendite adesso sono un po' calate, soprattutto non ci sono più cerimonie, giustamente, penso per tutti. Si lavora un po' più di più con il servizio a domicilio, che le persone, giustamente, non potendo rimuoversi, ci chiamano un po' di più. Tutto sommato non è che si lavora tantissimo, però non vi voglio lamentare. C'è qualche richiesta particolare che vi viene fatta dai clienti, anche per portare appunto a domicilio dei fiori? Qualche d'uno mi chiede anche se si può fare il servizio cimiteriale. Poi no, invece sono delle cose più carine, tipo mi chiedono se gli posso portare delle cose per fare dei lavoriati da balcone, con bambini, piantine, cose varie. Si fa anche questo tipo di consegne, in modo che le persone riescano poi a trattenersi, a passare il tempo, visto che siamo costretti quasi tutti a rimanere a casa. Nella scorsa puntata di Parliamoci Chiaro si è discusso anche dell'emergenza Covid e delle nuove restrizioni scattate con il passaggio della Toscana tra le regioni in zona rossa. Silvia Lavita, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, ha accusato la Giunta Comunale di non aver elevato sanzioni a sufficienza per far rispettare i divieti di assembramento. Ospite della trasmissione, anche Lorenzo Tinagli, consigliere comunale del PD. Ho chiesto di far rispettare una legge dello Stato italiano e purtroppo ho fatto una lotta contro il motore avvento, perché mi è sempre stato risposto un consiglio comunale che bisognava affidarsi al sanzo civico delle persone, al buon senso delle persone, che non era possibile sanzionare tutti. Il messaggio che è passato è che magari non c'era nemmeno una situazione di pericolo, perché comunque le persone non venivano controllate, non venivano sanzionate, non rispettavano la legge. Penso di aver avuto modo di dirglielo anche personalmente, di dirlo personalmente la consigliera Lavita. I controlli vanno fatti. Quando bisogna fare le sanzioni, le sanzioni devono essere fatte. Allo stato attuale, per quanto mi risulta, ci sono 26 pattuglie del servizio Interforze che controllano e praticamente venga rispettato quanto viene prescritto dal DPCM in fase di zona rossa. Non è così. Le sanzioni, un mese fa, l'assessore Leone mi ha risposto al consiglio comunale, una questione anche, le sanzioni fa emesse erano pari a zero, il comune di Prato, la giunta Biffoni, l'amministrazione comunale ha tollerato assembramenti, comportamenti non solo non civili, ma contro la legge. Il messaggio che abbiamo dato noi è che si poteva andare contro la legge, perché tanto non succedeva nulla. Le cose, lo sa benissimo la collega la vita, sono anche un po' più complesse, nel senso il sindaco non dirige il gruppo Interforze, c'è una questione che evidentemente è legata, fammi finire, è legata anche al lavoro di coordinamento con la prefettura e con la questura. 3 milioni e 800 mila euro sono le risorse che la regione stanzierà a sostegno delle attività nel settore dell'innovazione e in quello del turismo. è stata infatti approvata la variazione di bilancio della Commissione Sviluppo Economico, presieduta dalla consigliera Pratese Ilaria Bugetti, che abbiamo intervistato. Sentite. La Commissione Sviluppo Economico, da lei presieduta in regione, ha approvato una parte della variazione di bilancio, stanziate delle risorse per le imprese e anche del territorio. Di cosa si tratta? Sì, è una misura che riguarda due filoni, cioè due parti di aziende, una che riguarda l'innovazione, l'altra le imprese turistiche e quindi tutte coloro, tutte quelle imprese che erano rimaste fuori da una prima parte dei finanziamenti da parte della regione toscana. Quindi abbiamo ritrovato queste risorse in bilancio aggiuntive, che sono appunto, per quanto riguarda quelle di competenza della mia Commissione, 3 milioni e 8. Questa fa parte di una manovra più ampia di variazione di bilancio, che verrà presentata in Consiglio la prossima settimana, una manovra che si stima circa sui 31 milioni. La cosa importante, ringrazio l'assessore Marras che era presente in Commissione, è che la regione toscana sta lavorando facendo una fotografia di tutti i codici a teco, che hanno beneficiato degli aiuti del governo, facendo così un lavoro che metterà in condizione la regione toscana di poter declinare le risorse della regione su quelle categorie che ad oggi non hanno ricevuto finanziamenti specifici da parte del governo. Al momento del suo insegnamento lei ha dichiarato di volersi occupare in prima persona anche di un argomento come quello della sanità ed è notizia di questi ultimi giorni la trasformazione che procede a grandi passi di un lotto dell'ex CREAF in reparto Covid. Lei cosa ne pensa di questa operazione? Non nego l'opportunità di avere una struttura che era praticamente pronta, perché dotata anche delle infrastrutture, quindi di energia elettrica e tutte le altre infrastrutture già pronte, questo ha consentito anche una velocità di realizzazione della stessa opera. Abbiamo sempre detto che essere pronti, avere una medicina del territorio, medici di famiglia, ospedali, pronti ad accogliere le persone in difficoltà, avrebbe consentito anche di sgravare, di essere pronti a non avere una ripercussione troppo forte da un punto di vista economico. Le due cose vanno un po' di pari passo. L'impatto violento tra due automobili ieri sera in via Monnet con uno dei due veicoli coinvolti che si è ribaltato in strada. L'incidente per cause ancora in via di accertamento si è verificato intorno alle 22.30. I due mezzi stavano percorrendo via Monnet in direzione via Roncioni. Quando si sono scontrati uno dei due veicoli guidato da un vettottenne italiano si è capovolto ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare il ragazzo che è stato ricoverato al Santo Stefano in codice rosso. A bordo dell'altra auto un 48enne italiano che non ha riportato lesioni importanti. Sul posto oltre al 118 ai vigili del fuoco anche la polizia municipale per i rilievi del caso. Una protesta attira l'altra al cantiere per la demolizione del vecchio ospedale. Dopo le vicende legate al contagio Covid tra gli operai e le polemiche politiche, adesso è il turno dei residenti che hanno presentato un esposto al comune, asla e municipale. Un esposto all'Asl, al comune e alla polizia municipale per segnalare il mancato rispetto dei limiti orari nei lavori al cantiere per la demolizione dell'ex ospedale. È quanto ha presentato un gruppo di residenti che adesso chiede all'amministrazione comunale e all'azienda sanitaria di assicurare lo stop alle ruspe nel cantiere dell'ex Misericordia e Dolce durante il weekend dal sabato alle 13 fino a lunedì alle 7 del mattino. I firmatari dell'esposto infatti ricordano che il comune ha concesso deroghe solo sullo sforamento delle soglie rumorose ma non sul fronte degli orari. In particolare chi abita in zona punta il dito sul weekend del 31 ottobre e 1 novembre quando con tanto di video inviati al comune sono state riprese le ruspe in azione il sabato pomeriggio e la domenica. Chiedo alle autorità competenti quindi all'ASL quale committente, quale ente proposta al controllo al comune perché è il comune che concede la deroga ai rumori e non l'ha concessa per gli orari di intervenire e chiedere alla impresa di rispettare gli orari che gli sono stati imposti che poi in realtà sono quelli previsti dal regolamento comunale. I residenti che si sono fatti promotori dell'esposto ricordano di non essere contrari alla realizzazione del nuovo parco centrale al posto dell'ex ospedale ma chiedono di poter limitare i disagi. Tra questi oltre ai rumori ci sono anche quelli legati alle polveri. Sull'argomento secondo i residenti non sono stati rispettati gli accordi presi durante l'incontro con comune ed ASL. Un altro problema è quello delle polveri perché c'era stato assicurato e ci sarebbero state due gru che dovevano sorreggere dei seli antifolvere, metratura 5 per 10 circa, che però non si sono mai visti. Novembre è il mese contro la violenza sulle donne. L'assessorato e la commissione pari opportunità del comune di Montemurlo, nonostante le restrizioni imposte dal virus, promuovono una serie di letture, interviste e video che saranno pubblicate sui canali social del comune. Sentiamo. Quest'anno noi utilizzeremo la pagina Facebook della commissione pari opportunità del comune di Montemurlo e il canale YouTube del comune di Montemurlo. Le iniziative saranno varie, nel senso che a partire da questo sabato fino alla fine di novembre metteremo tutti i giorni interviste e letture tratte da un libro di Stefania Prandi che parla di femminicidi e conseguenze del femminicidio, quindi ci saranno varie interviste e varie letture su questo tema. E poi inaugureremo anche la panchina rossa perché comunque era già stata programmata prima dell'emergenza sanitaria, però sarà un'inaugurazione naturalmente che non vedrà insomma pubblico, quindi sarà un'inaugurazione che manderemo in diretta a Facebook appunto sulla pagina del nostro comune. Abbiamo voluto creare queste iniziative come ogni anno naturalmente perché riteniamo sia fondamentale continuare a parlare di questo. Naturalmente novembre è il mese dedicato all'eliminazione della violenza contro le donne, però è un'attività che la nostra amministrazione porta avanti durante l'anno con iniziative, con la stretta collaborazione con il centro Lanara, con lo sportello antiviolenza che abbiamo nel nostro comune ormai già da tanti anni. Quest'anno ad esempio purtroppo abbiamo avuto 21 accessi allo sportello, quindi sono dati importanti che ci fanno capire che è un problema che va comunque affrontato ogni giorno e sempre con determinazione. Passiamo adesso allo sport, al calcio, allenamenti sospesi per il Prato, la squadra infatti in quarantena in attesa dei tamponi di controllo. Intanto l'Aglianese ha ripreso ad allenarsi e lancia la sfida e lanieri, ce ne parla Massimiliano Masi. Il Prato è ancora in quarantena, allenamenti sospesi in attesa del tampone di controllo fissato per tutto il gruppo per lunedì prossimo. Se il controllo andrà bene, la squadra potrà riprendere ad allenarsi il giorno successivo. Intanto l'emergenza Covid-19 in casa Laniera ha costretto al quarto rinvio consecutivo il recupero della partita con il Givi Borgo. Mentre il Prato è costretto allo stop, ha ripreso ad allenarsi l'Aglianese che ha smaltito invece l'emergenza Covid e ha una voglia matta di tornare in campo, pronta a lanciare la sfida al Prato per la vittoria finale del campionato. La prima sfida tra Prato e Aglianese si è giocata in estate sull'ingaggio dell'attaccante Cristian Brega che ci svela qualche gustoso retroscena. Ma no, non c'è retroscena, come tutte le estate ci sono delle trattative o delle chiamate, poi insomma qui conoscevo già il Ministero eccetera, quindi alcuni ragazzi, non metto un dubbio, ecco il Prato è una piazza, società, una società vera, una società che è abituata ad essere in altri palcoscenici e penso che la Serie D è solamente tre anni che la fa, quindi anzi quest'anno doveva essere in Serie C perché se la meritava tutta, dopo quello che è successo scorso anno, quindi niente, chiaramente sarà come penso io ma pensano tutti, sarà sicuramente la squadra da battere. Lunedì 23 novembre alle 19 su TV Prato andrà in onda la terza puntata di Posto di sblocco, il nuovo lavoro del gruppo di lavoro artistico del Teatro Metastasio, il progetto del Teatro d'Indagine al tempo del distanziamento sociale. Titolo di questa terza puntata realizzata in Piazza del Comune è La vita davanti alla fontana. La puntata è stata curata come sempre da Francesco Rotelli e Luca Zacchini con la partecipazione di Paola Tintinelli e la sceneggiatura di Giulia Zacchini. La terza puntata di Posto di sblocco andrà in replica lunedì 23 novembre alle 22.45, martedì 24 novembre alle 13 e mercoledì alle 7. E questa era l'ultima notizia, il telegiornale termina qui, l'informazione di TV Prato torna lunedì alle 13. e 45 con il Tg del giorno. Vi ricordo inoltre l'appuntamento di domani con Prato 7 per ripercorrere i fatti salienti avvenuti nel corso della settimana che sta per terminare. Grazie per averci seguito e arrivederci.